Cari amici, buongiorno! Benvenuti in questo nuovo video di Alelo Statale. Oggi siamo qui su ETS2 con il nostro bellissimo Scania che da oggi cambia pelle, cambia colorazione grazie ad un ragazzo che mi ha gentilmente fatto questa skin personalizzata, di cui vi lascio il link di Instagram e di YouTube in descrizione. Ci tengo a dire inoltre che sto cercando qualcuno che abbia voglia di un po' di pubblicità e che mi faccia una targa LED per il simulatore uguale a quella reale che siete abituati a vedere nei miei vlogs. Quindi se c'è qualcuno interessato può scrivermi tramite mail o in direct su Instagram, poi vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Quest'oggi siamo impegnati in un trasporto frigorifero con partenza da Firenze in direzione Francia, per la precisione la destinazione sarà Montpellier, dove lasceremo il semirimorchio che abbiamo appena agganciato. Ecco che inizia il nostro viaggio. In questo nono episodio andremo, come detto, per la prima volta insieme in Francia. Purtroppo riesco a registrare sempre meno vlogs ultimamente, perché i giri che faccio sono sempre i soliti, quindi quelli che ormai conoscete a memoria anche voi. Inoltre è un periodo di transizione a lavorare, visto che inizierò ad usare solo ed esclusivamente il bilico. In questi ultimi giorni ho usato un trattore Renault Range T, un mezzo davvero comodo e performante, che non ha niente a che vedere col premium, né tantomeno con lo stralissino, che poverino sta diventando la riserva del nostro lavoro. Questa settimana ho fatto un po' la mano col nuovo mezzo e vedrò di registrare nei prossimi giorni un video per farvi conoscere, tra virgolette, il mio nuovo compagno di viaggio. Tra l'altro, il Renault Range T è stato aggiunto da pochi giorni anche qui su Aerotrack Simulator 2, quindi poi in futuro potrebbe essere carino portare il mio camion reale anche qui sul simulatore. Fatemi sapere semmai cosa ne pensate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E' già ragazzi, quello che abbiamo appena finito di percorrere è quello che era il Ponte Morandi di Genova. E devo dire che passare qua, anche se è solo un simulatore, fa sempre un certo effetto e fa sempre venire i brividi. Sapendo che oggi quel Ponte non c'è più, e che quando è uscito il DLC Italia su Aerotrack Simulator 2 c'era ancora, sapere che quello che hanno realizzato in questo videogioco è fedelissimo a quello che era il Ponte in realtà, anche con le fabbriche e le case costruite lì sotto. E' già ragazzi, anche se è stato un po' di più, e che è stato un po' di più, e che è stato un po' di più. E' già ragazzi, anche se è stato un po' di più. E' già ragazzi, anche se è stato un po' di più, e che è stato un po' di più. 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 ecco che siamo giunti allo svincolo per Montpellier. La Francia, che qui sul simulatore, ha sempre un bellissimo paesaggio. Io ho avuto la fortuna di girarla più volte con la macchina, e mi ha sempre lasciato dei bei ricordi per quanto riguarda i panorami, e le belle strade da percorrere. Voltare a sinistra. Abbiamo finito. ecco che siamo giunti finalmente a destinazione. ora ci apprestiamo a mettere il bilico sotto ribalta, sganciamo il rimorchio, e vedremo un po' che cosa fare dopo. ecco. 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 parcheggiato ricordate di mettere un bel like al video lasciate un commento se avete voglia seguitemi su instagram facebook e qui appunto su youtube il video termina qua un saluto dalle lo statale e alla prossima ciao bye